Qui Casale in 9 uomini finisce la partita con questa doppia espulsione e pensate il Casale ha trovato il gol in inferiore interumerica il Casale in 10 uomini ha trovato il gol dell'1-0 vediamo chi è stato il giocatore che si è fatto espellere dal Cintoi, il numero 5 Cintoi, espulso quindi anche Cintoi prima era stato espulso Fassone, 9 uomini del Casale contro l'11 del Codo c'è un cambio del Codo, entra Fusi, sta per entrare Fusi finale pazzesco qui a Casale, esce il numero 3 Daiello Fusi